Il giudice lo ha assolto per mancanza dell'elemento soggettivo, ovvero perché il fatto non costituisce reato. In parole più semplice, questo signore, sì, è vero, non ha versato l'IVA, ma non l'ha fatto apposta. Non voleva commettere questo reato, perché? Perché nel 2011, in piena crisi di liquidità, dove i direttori delle banche gli avevano chiusi tutti i rubinetti, lui, invece di pagare l'IVA, ha preferito pagare i stipendi dei propri dipendenti. Che non solo erano i propri dipendenti, ma erano anche i propri concittadini. È l'avvocato Svaldo Fratini di Arezzo che ricostruisce per noi la storia a lieto fine dell'imprenditore del Casentino che ha subito un processo per evasione fiscale per 700 mila euro d'IVA, ma che è stato assolto. Aveva tentato ogni possibile strumento per sbloccare la crisi di liquidità. Poi, a fine 2011, con i pochi soldi rimasti in cassa, ha scelto di pagare i dipendenti e non l'IVA. Per cui, quando è arrivato l'avviso di garanzia e l'avvio del processo per evasione, l'imprenditore non ha fatto altro che portare la sua storia, tutta, in tribunale. In sintesi ha detto, cioè, io l'azienda l'ho sempre vissuta come un figlio, e lei dice, lei giudice, non so se ha figli, però insomma, ecco, prima di abbandonare un proprio figlio ci si pensa un sacco di volte. Io ho cercato di tutto, di fare di tutto di più, per non abbandonare quello che appunto consideravo un figlio. Lui è stato sincero, ha raccontato la sua storia di quando lui da ragazzo ha iniziato 40 anni fa con un solo apprendista a fare gli infissi, a lavorare gli infissi in legno, per poi arrivare invece ad avere 380 dipendenti, 80 milioni di fatturato, e quindi aver costruito una realtà imprenditoriale molto importante. La crisi di Lizia, il fatto che molti committenti non pagassero, ha determinato appunto nel 2011 questa crisi di liquidità, e lui con quei pochi soldi che rimanevano in cassa, invece di pagare l'erario, ha pagato i propri dipendenti. Una sentenza, quella emessa il 15 aprile, scorso storica per il Tribunale di Arezzo, coraggiosa e quasi rivoluzionaria, secondo lo stesso Avvocato Fratini, che offre speranza a molti casi simili. Per l'imprenditore del Casentino è l'uscita da una vicenda molto forte, nel frattempo, mentre la prima azienda è fallita, ne è nata un'altra, che ne continua la storia. Costituiscono una nuova società, dove ci lavorano pure anche i figli, e lui fa il consulente, hanno acquistato dalla curatela la vecchia società per 750 mila euro, quindi non per una cifra modesta, e ora danno da lavorare a 120 dipendenti. Quindi lui ha raccontato al giudice che non è che poi alla fine, come possiamo dire, non ha pagato l'IVA ed è scappato con il malloppo, ha cercato di tutto e di più per salvare la propria azienda, ma non ci ha riuscito. Nel frattempo però ha salvaguardato le proprie maestranze.